Siamo stanchi di essere presi in giro come cittadini e soprattutto perché non si rispettano gli accordi presi anni fa e abbiamo fatto ricorso alla deliberazione del Consiglio Comunale. I residenti di Malcontenta, membri del Comitato Tutela Salute e Ambiente, non mollano. Per questo hanno presentato ricorso al TAR contro la delibera della modifica al piano degli interventi che non prevede più il trasferimento dei serbatoi della San Marco Petroli, dichiarato però pericoloso dalla Prefettura e nella lista degli otto impianti a rischio incidente rilevante. Ha 28 serbatoi di combustibile con una capacità complessiva di circa 1.300.000 litri di combustibile altamente infiammabile che rappresenta una minaccia costante perché siamo a 150 metri dell'abitato e nonostante questo non rispettano gli accordi che l'accordo precedente, fatto dall'accordo al programma del Vallone di Moranzani, prevedeva il trasferimento a un chilometro da qua vicino al Canale Sud. Con questa deliberazione dei comuni di Venezia la San Marco Petroli rimane al suo posto. Procedure evidenziano che non rispetta le normative di PAT e legge Seveso. Il silenzio di questi soggetti è eloquente, hanno disdettato anche una commissione qui a Mai Contenta organizzata per lunedì prossimo sul tema del benzene, altra questione rilevante su cui ci stiamo spendendo e c'è da dire che non solo questo ma su tanti altri temi sarebbe da aprire un libro a Mai Contenta. Aspettiamo il sindaco, aspettiamo gli enti competenti, aspettiamo la regione che indicano e organizzino un'assemblea pubblica nel quale ci vengano a spiegare i perché di tante questioni che sono ancora calde. La sostenibilità è una speranza a questo punto, proprio a causa delle decisioni prese recentemente dalla nostra amministrazione comunale, questa speranza si va allontanando e dire che Venezia è città capitale della sostenibilità.